5 persone coinvolte di cui 4 di etnia rom che si sono date alla fuga ed una che sarà presa in carico dall'ambulanza del 118 e questo è il bilancio del sabato sera targato sul mona che torna ad essere all'insegna della violenza. La maxilite si è verificata poco prima delle 2 fra sabato e domenica nel perimetro del complesso monumentale dell'Annunziata e si sarebbe sviluppata stando almeno alle primissime informazioni raccolte in tre distinte fasi. La prima è avvenuta nel vicolo di via Pantaleo e sarà caratterizzata da scazzottate poi sarebbe volata anche una sedia si arriva così al locale adiacente via Pantaleo dove la lita è proseguita per terminare sulla scalinata dell'Annunziata lì sarebbero volate anche bottiglie di vetro fra volti insanguinati clima concitato gente spaventata la situazione torna man mano alla normalità sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia che effettuato rilievi di rito ascoltato alcune persone che hanno assistito la scena da far west un aiuto alle indagini potrebbe sicuramente arrivare dalle telecamere installate all'interno dei locali. La volante del 113 è stata accolta fra fischi applausi provocatori ma poi gli stessi avventori hanno dichiarato i poliziotti di non aver visto nulla la solita omertà targata sul Mona. L'ambulanza del 118 ha soccorso uno dei giovani rimasto ferito nella lite che sarebbe nata per futili motivi mentre gli altri quattro non si sono fatti trovare dei poliziotti perché era seduto sulla scalinata dell'Annunziata nei bar della zona è stata una serata tutt'altro che tranquilla ci mancava poco che qualcuno estraneo alla vicenda poteva rimanere coinvolto per il semplice fatto che si trovava da quelle parti finita la lite sfociata in una vera e propria aggressione i sentimenti sono quelli di rabbia e indignazione perché la tranquillità del sabato sera non può essere interrotta da di verbi probabilmente personali che non dovrebbero ripercuotersi sul buon vivere comune